L'epifania, oltre a portare via con sé le festività, segna anche in molte città italiane, comprese quelle romagnole, il periodo d'avvio dei saldi nei negozi. Ogni anno la fatidica data del 6 gennaio è attesa da molti consumatori che magari hanno aspettato arrivasse il momento della merce scontata per poter acquistare un capo d'abbigliamento o un paio di scarpe che piacevano ma costavano troppo. Quest'anno però, complice il Natale che per molti commercianti è stato sottotono, l'avvio degli sconti per molte attività commerciali è iniziato in anticipo e già da alcuni giorni è possibile vedere cartelli con la scritta di vendite promozionali e la percentuale di sconto in molte vetrine. Se da una parte questo anticipo è apprezzato da chi vuole fare acquisti, dall'altra sottolinea sicuramente un sintomo di sofferenza del commercio che pur di smaltire le giacenze del negozio vede i commercianti anticipare i saldi ad un periodo che, in condizioni economiche ottimali del Paese, sarebbe ancora di festività e dunque di vendite a prezzo pieno. La crisi ha poi contribuito ad elevare in molti casi la percentuale di sconto praticata sulla merce in vendita e se molti negozi praticavano in precedenza saldi del 20%, ora è più facile vedere sconti dal 30 sino al 50%. Le regole poi per chi acquistano in saldo sono sempre le stesse, semplici ma indispensabili per evitare spiacevoli sorprese. Al primo posto quella di rivolgersi a commercianti di fiducia per poter verificare il prezzo della merce prima dei saldi e dopo, evitando di incorrere in specchietti per le allodole e poi di conservare lo scontrino dell'acquisto per eventuali cambi di merce.